Gaston, con il Carpi classica marcatura uomo asfissiante, probabilmente grosso, con il Verona gioca in maniera diversa la sua identità, magari puoi giocare un po' di più? Sarebbe bello dai, perché alla fine le ultime partite un po' mi hanno marcato più a uomo che dal solito e faccio un po' più fatica normale. Però dai, domani è una bella partita, so che la città verrà lo stadio e la gente comunque si ha fatto sentire questi giorni. L'appello che vuoi fare proprio da capitano, perché il pubblico sarà numerosissimo, tra l'altro i tifosi organizzati hanno preparato un corteo, oltre 10.000 allo stadio, cosa ti senti di dire? Ringraziare ovviamente per la fiducia che ha con la squadra e noi domani vogliamo scendere in campo subito per dimostrare quello che siamo. Al di là del ruolo mezzala o metodista, con Bruno in campo ti senti un po' più libero di poter andare e di esprimerti? Sì, sì, no, non so, ancora non ho fatto la formazione mister sicuramente, da mezzale magari sono più libero, però mi piacciono tutte e due, non è un problema. Verona, squadra in difficoltà, visto la sconfitta in casa pesante contro il Benevento, però domani potrebbe essere l'occasione giusta per chiudere il discorso playoff? Sì, non dovevo pensare a loro che sono in un momento di difficoltà perché alla fine magari in questo periodo dai qualcosa in più ancora, so che sono in ritiro quindi di sicuro sarà una battaglia e noi siamo pronti per affrontarla. Ti chiedo un'ultima cosa sul futuro, il playoff è l'obiettivo presente, però Gas sta pensando anche a continuare ancora altri anni qui a Pescara? Io ho incontrato con la società, quindi l'ho sempre ripetuto, sto benissimo qua, sono felice, quindi non penso in altro, adesso sicuramente dobbiamo centrare il playoff che è la cosa più importante.